Come non c'è possibile raffigurarci concretamente l'attività di Eichmann, così non riusciamo a concepire che gli abbia potuto vivere 15 anni prima della cattura senza parlare della sua colpa, senza provare il bisogno di chiarirla di fronte a se stesso, anzi, a quanto pare, senza soffrirne nemmeno. E ciò benché la posizione che occupava non fosse affatto quella posizione subalterna che vorrebbe farci credere ora. Il fatto che gli abbia partecipato alle conferenze in cui gli organizzatori del terrore discutevano, fra un bicchierino di cognac e l'altro, nelle misure più adatte allo stermino di milioni di uomini, contraddice chiaramente l'eseguità delle funzioni burocratiche, a cui egli, per impicciolire il più possibile la sua colpa, attribuisce ora tanto peso. Altrettanto poco ha delitto di scusarsi, dicendo di essersi limitato a sedere al suo tavolo, nel proprio ufficio e a tenere in ordine gli schedali della strage, e di non essere stato capace, fra tutte quelle scartoffie, di raffigurarsi intuitivamente, e nelle sue dimensioni effettive, il contenuto reale di quelle schede. Ma, a parte il fatto che non sarebbe un attenuante, nemmeno questo corrisponde alla verità, poiché in varie occasioni egli assistette, di persona, alla distruzione fisica di coloro i cui registrava accuratamente nei suoi schedali, i nomi e i denti d'oro. E' vero che lo spettacolo di quei massacri non gli piaceva, e ora, ma anche questo è poco dignitoso, arriva persino a chiedere la nostra compassione per la nausea che gli provocava quello spettacolo. Ma quella nausea non gli impedì di continuare a dirigere gli uffici dello stermineo e a svolgere irreprensibilmente il suo lavoro per altri anni. L'aspetto più pauroso delle dichiarazioni dello sterminatore «Ero solo una rotella dell'ingrenaggio? mi sono limitato a eseguire gli ordini che mi davano, eccetera?» è che sono identiche agli argomenti adoperati oggi da ciascuno di noi, dagli operai addetti alla costruzione dei missili Polaris, dagli scienziati che sperimentano gli ordigni della guerra chimica, dal tuo collega Francis Powers, che con i suoi voli spionistici è stato sul punto di provocare la catastrofe. Anzi, quegli argomenti sono identici a quelli che ci vengono somministrati ogni giorno come tranquillanti per addormentare la nostra coscienza. Non dobbiamo farci illusione. Chi non accetta gli argomenti di Eichmann, anche nei paesi che oggi sono sinceramente indignati e rivoltati del suo caso particolare, è considerato una persona infida e un traditore, oppure un pazzo. Se in questo periodo in cui siamo di nuovo sconvolti, ogni giorno, per l'orrore di quegli eventi di quasi vent'anni fa, penso a te in modo particolarmente intenso, Claude, è perché tu sei la grande controfigura che ci può consolare in questo orrore. Quando esiquisti l'incarico che ti era stato affidato come rotella nell'ingranaggio, non sapevi che cosa facevi. Ma dopo aver visto quello che avevi fatto, sei balzato in piedi e hai gridato no. E a partire da quel primo no, non c'è più stato giorno in cui tu ti sia rimangiato quella parola. Non ti sei fatto piccolo e non hai cercato di scagionarti con la frase «Ero solo una rotella nell'ingranaggio e quindi non sono colpevole». Ma hai detto invece, se in quanto semplici rotelle possiamo diventare così paurosamente colpevoli, allora dobbiamo rifiutarci di fungere da rotelle in questo senso. Eichmann e tu siete le figure esemplari del nostro tempo e se non ci fossi tu a fargli da contraltare, avremmo ogni ragione di disperare in questa epoca di Eichmann. Non credere, Claude, che questo confronto, o piuttosto questa contrapposizione della tua figura, quella di Eichmann, sia un'idea artificiale o arbitraria. La vostra complementarietà mi era già chiara da tempo quando stamattina ho potuto leggere sui giornali che Servatius, il difensore di Eichmann, per cui si trova una difesa con un eco internazionale, ma per te no, ha avuto la spudratezza di affermare un uomo che obbediva agli ordini altrui come Eichmann, non può essere considerato responsabile più di quanto possa esserlo l'uomo che lasciò cadere la bomba su Hiroshima. Non voglio parlare del fatto che questo paragone non sta in piedi, poiché tu e i tuoi compagni avete eseguito due azioni che non potevate fare a meno di ritenere azioni di guerra, mentre Eichmann ha attuato sistematicamente, giorno per giorno e per anni interi, lo sterminio di esseri umani che non avevano nulla a che fare, oltretutto con l'esito della guerra, ma solo del fatto che tu ti sei assunto la responsabilità di quelle stesse azioni, anche se non sei stato chiamato a risponderne, che hai insistito a dichiararti colpevole, anche se nessuno ti chiedeva di farlo, anche se ogni giorno ti si continua a chiedere di non farlo. Ed Eichmann dovrebbe essere scagionato dalle sue responsabilità attraverso il confronto con te, se c'è un uomo che avrebbe il diritto di mettere a posto Servatius o Eichmann, quell'uomo sei tu. E per quanto triste e solitaria possa essere ogni mattina per te, Claude, dovresti renderti conto ogni mattina che hai la fortuna di essere la grande antitesi che ispira conforto e speranza a noi tutti, messo a confronto con l'importanza della parte che ti è stata assegnata e di cui ti sei mostrato all'altezza. Il fatto che sei materialmente solo, che non puoi vedere ed essere visto da quelli che consoli, può forse diventare più tollerabile. Noi comunque pensiamo a te con gratitudine e se un giorno potremmo vederti e dicendo noi penso a tutti quelli che sono stati consolati dalla tua esistenza, allora il sacrificio che ti è stato imposto in questi anni potrà anche aperirti come un nulla. Continuiamo a lavorare in vista di quel giorno. Come sempre il tuo Gunther Grazie a tutti.